Ma non si muove niente, forse è un po' troppo. Se ritirava così e cascava anche da solo, no? Certo. Stai un pochino, leggermente, 3 mm su, grazie per l'attivazione, qua ti viene precisa, però nel 6 ore fa il 100%, l'80% lo fanno sempre, certo, e poi la troppo d'altro. Oh, un sbagliare, un rirescan questi, eh. Non ho mai già capito subito che li tirano, quindi gli lascerà un po' più lunghi. E' meglio lasciarli, ecco, un pochino più lunghi, almeno dopo se c'è da ritoccare. Li posso ritirare la tua volta? Tira. C'è un concorrente che fa un video, che anche lui tira, che è il furbo, che lui tira sopra dove c'è l'impianto, lui quest'altro tira qui dalle parti e va. Questa è la prima volta che prendo un rasoio in mano, eh. Guarda, veramente, la tecnica è incredibile. La posso provare anch'io. La ciao! La giornata! Buongiorno! Grazie, grazie! Về nuotra! Grazie.